Avete notato che questo college è pieno di asiatici? Quando sono diventati così svegli? Non lo so, forse Dio li ha creati così. Signori, vi presento l'asiatico. Compatto, glabro e molto intelligente. Il pene è minuscolo e estremamente efficiente. Ne produrremo 10 miliardi entro 5 anni. Ci saranno diverse varianti che si odieranno per un qualche motivo. E mangiano come noi cibo normale? No, no, l'esatto contrario.